Ciao amici di Legnana Web TV, ci troviamo qui a Parabiago alla Fiera del Cioccolato, una giornata veramente fredda ma tanto calorosa. Andiamo a scoprire cosa ci offre questa giornata. Andiamo! Andiamo! Come vi sembra? Bella, bella, un bel ambiente. Avete trovato qualcosa di sfizioso, di goloso da regalare o assaggiare? Tutte le forme strane, bulloni, interessanti. Notiamo che in questa giornata fredda i ragazzi si stanno gostando una buonissima cioccolata calda. Ci vuole, ci vuole soprattutto dopo la partita, una bella cioccolata va bene. Voi ragazzi da dove venite? No, no, no. Quindi insomma un evento che vi ha stuzzicato. Tramite amici abbiamo saputo che c'era la fiera e siamo venuti volentieri. Va bene, allora io vi ringrazio, vi lascio gustare la vostra cioccolata e buon giretto. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, ragazzi. Guardate cosa si stanno gustando queste due bellissime ragazze. Venite qui. Cos'è? Un buffer al cioccolato. Golosona. Guardate che bontà. Buono. Sì, viene sopra. E ha un nome particolare? Non penso. Non gliene frega niente del nome, allora gli interessa solo gustarsi questo buffer. Ragazze, da dove venite? Da Poi a Viago. Da Viago, quindi insomma siete nostrali diciamo. Mi piace questa cosa della fiera del cioccolato? Sì, molto. Siamo diventate ciccione. Vabbè, insomma, non è che siete messe bene, insomma. Dai, allora dite, sono contenta per voi, continuate a gustarvi questa dolcezza, così così me lo faccio anch'io un buffer al cioccolato. Cosa dite? Grazie ragazzi, ciao. Ciao. Una dolce intervista, posso? Ha il capo? Dov'è il capo? Capo? Vorrei... Vorrei farle una dolce intervista, diciamo. È possibile? Va bene qua? Ci piace? Da dove venite? Noi andiamo a De Firenze. Abbiamo un operatore pressano, lo Strudel. Strudel. E cavolo, ce ne sono un sacco. Il cioccolato viene da Milano, lo Strudel è da Bersano. C'è un nostro amico che ce lo fa da Bersano. E come mi sembra la giornata di oggi? Vi è piaciuta? Diciamo come prima volta nel paese, non è stata male. Come prima volta non è stata male. Ok. E il dolce che è andato di più? Qua? Vera e cioccolato. La novità dell'anno, vera e cioccolato. È un nostro prodotto che noi andiamo in tutte le piazze, la gente ci viene a trovare, che lo gusta portanto bene. Va bene, allora io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e buona continuazione. Grazie, ciao. Amici, siamo arrivati alla conclusione di questa stupenda giornata. E siccome fa tanto freddo, io mi vado a prendere una cioccolata calda. Un bacio dalla vostra Denise. Ciao. Ciao. Ciao.